grazie a Roma non puoi salire? no davvero le mani va bene così ok 3,2 1 ancora una ancora una ciao 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 bella facciamo stare ok tutte e due ok freddo freddo se facevi da Valencia ce ne erano 4.50 però se facevi Bergamo se facevi Bergamo, se facevo 4.50 Bergamo se facevi, se facevi, se facevi e se facevi Grazie.